Siamo con Antonio Del Pomo, presidente del gruppo sportivo Mario Canonico a San Lorenzo. Presidente, riparte la bodistica internazionale San Lorenzo e lo fa con un doppio importante appuntamento. Il concorso scolastico Memorial Antonio Ragoni, aspettando la San Lorenzo. Sì, sono due manifestazioni collaterali alla manifestazione Clu, che si terrà a settembre. E' lo scopo di queste due manifestazioni di avvicinare i giovani allo sport. Lo facciamo con il concorso scolastico, che in effetti è stato voluto dal presidente Ragone circa 28 anni fa. Sono 28 anni che si ripete anno per anno. E' riservato alle scuole materne e alle scuole elementari dei circoli didattici di cavi di treni. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti i dirigenti didattici e in particolare le insegnanti delegate che hanno coordinato la preparazione dei bambini, che si esibiranno allo stadio comunale Simonetta Lamberti, giovedì 14 maggio, alle ore 16 e 30, con la partecipazione di circa 400 bambini che si esibiranno sul manto erboso dello stadio comunale. Poi, il giorno dopo, il giorno 15, alle ore 9 e 30, ci sarà, aspettando la San Lorenzo, che è stato voluto dall'amministrazione comunale circa 13 anni fa. E lo scopo di questa manifestazione è passare alla fase successiva, cioè portare i bambini delle scuole medie a esibirsi allo stadio comunale in prove di atletica leggera, che sarà per far sì sempre che possono masticare sempre sport e non pensare ad altre cose che non adatte per loro. Il tutto ovviamente in preparazione di un'attesa della importantissima data del 27 settembre, quando la bodistica vivrà la sua 54esima edizione. Sì, il 27 settembre si terrà la 54esima bodistica internazionale e per quell'occasione ci sarà la premiazione dei partecipanti del concorso scolastico e ci sarà anche una gara riservata ai ragazzi delle scuole medie che parteciperanno a questa manifestazione di venerdì, ci sarà riservata a loro anche a settembre una gara dove loro gareggeranno. Scarlino, Presidente del Centro Sportivo Italiano dei Cavalli di Reni, anche quest'anno in prima linea nell'organizzazione della bodistica internazionale San Lorenzo. Non poteva che essere così, oramai il binomio, siamo cresciuti assieme, abbiamo dato tanto noi alla San Lorenzo e la San Lorenzo ha dato tanto a noi. Quindi è giusto ed è normale che la bodistica internazionale San Lorenzo e il Centro Sportivo siano ancora assieme. L'attesa dell'edizione del 27 settembre, la 54esima edizione, c'è questa stuzzicante anteprima con il coinvolgimento, questa è una cosa particolare, dei bambini e dei ragazzi delle scuole cittadine. Ovviamente è anche uno dei valori fondamentali del Centro Sportivo, è quello della promozione dello sport, della cultura sportiva, dello stare bene, del divertirsi e quindi ovviamente questi sono due grandi appuntamenti. Il primo col concorso scolastico che vede coinvolti tutti i bambini delle scuole, dove il Centro Sportivo farà da supporto, ma giusto nell'organizzazione, da dare una mano nell'organizzazione perché il grande applauso, ricordiamo ancora una volta, vanno ai dirigenti scolastici, ma alle maestre che hanno preparato i bambini, e quindi il Centro Sportivo sarà solo da supporto, saremo noi a presentarlo insieme però è da supporto, mentre poi saremo protagonisti in quello che sappiamo fare meglio, quello che è l'organizzazione dell'attività sportiva, il giorno successivo con l'Aspettando la San Lorenzo, dove ci saranno i nostri giudici impegnati, i nostri collaboratori, che faranno da supporto tecnico, così come per la potistica internazionale San Lorenzo. Siamo con il consigliere regionale onorevole Giovanni Baldi. Onorevole, riparte la potistica San Lorenzo un evento di respiro nazionale, possiamo dire internazionale, al quale la Regione, in particolare l'onorevole Giovanni Baldi, ha sempre dato il suo supporto e il suo contributo. Sì, e lo continuerà a dare, anche perché la Regione la ritiene una delle manifestazioni più importanti sul territorio gavese, ma di respiro, come dice lei, regionale, nazionale e internazionale. Quindi, anche se di poco, però ci sarà l'attenzione della Regione, non solamente per il patrocino murale, ma anche per un po' di risorse economiche. E, naturalmente, il plauso va sempre ad Antonio del Puma, a tutta la sua equip che lo contorna, perché ogni anno questa manifestazione riesce sempre in una maniera eccezionale, coinvolgendo inizialmente i ragazzi delle scuole, quando il momento di social lo contorna, perché ogni anno questa manifestazione riesce sempre in una maniera eccezionale, coinvolgendo inizialmente i ragazzi delle scuole, quando il momento di socializzazione, dello stare insieme, di educazione anche ai veri valori, dello sport che è importante darli ai ragazzi, fino a poi fare la vera e propria manifestazione della vera e propria podistica San Lorenzo. Quindi, complimenti a tutti quelli che lavorano per un anno. Il concorso scolastico Memorial Antonio Ragone, aspettando la San Lorenzo, due manifestazioni dedicate ai bambini e ai ragazzi delle scuole cittadine. Ecco, Sindaco Caldi, davvero il modo migliore da parte della storica podistica internazionale San Lorenzo per tramandare alle nuove generazioni i valori più sani ed autentici dello sport. Sì, siamo arrivati alla 54esima edizione, ormai è una manifestazione assolutamente consolidata della città, e queste iniziative che coinvolgono le giovani generazioni sono particolarmente utili perché in qualche modo creano un clima di attesa e di attenzione nei confronti della podistica San Lorenzo e anche stimolano tanti giovani ad intraprendere l'attività del podismo che a Cava ha questa grande tradizione incarnata proprio nella San Lorenzo. Siamo particolarmente grati all'associazione che propone anche per quest'anno questa serie di iniziative che culmineranno poi con la gara internazionale e siamo certi che ci sarà un grande coinvolgimento da parte di tutti i ragazzi che rappresentano il futuro della podistica San Lorenzo, coloro che magari fra 5-10 anni correranno proprio nella gara internazionale.